Ciao amici benvenuti nella mia casa benvenuti nella mia cucina per una nuova puntata di chef per passione non so come ho fatto a dirlo tutto insieme senza impappinarmi mai sono molto felice oggi perché c'è un ospite che ovviamente è piegato lì sotto e lo terrò un po lì almeno per un minutino e sono molto felice soprattutto per quando invito gli ospiti che non conosco e in questo caso non è un amico ci siamo conosciuti poco tempo pochissimo tempo fa un dieci minuti fa ha portato come fanno i veri cuochi mi ha portato tutte le sue cose ordinatissime dentro dei contenitori cioè c'è il prezzemolo già tagliato è tutto perfetto un quintale di prescinsea e sei uova vedo delle acciughine già aperte quindi meraviglioso non mi farà spinare tutte le acciughe una per una ma non lo tengo lì sotto ci dirà lui chi è intanto io ve lo presento signore e signori manuel ciao ciao manuel qua ci sono montati degli applausi quindi se gente che quindi ok manuel dalla tua maglietta deduco che tu abbia un posto che si chiama così le delizie dell'amico che cosa fai dentro aspetta dov'è via cannetto lungo ok facciamo torte farinata focaccia al formaggio cose genovesi le asciughe ok socca fisso sì quindi oltre a prendersi un bel pezzo di focaccia o di focaccia al formaggio uno può anche prendersi la cena sì cioè viene ti dice voglio questo 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 poi apparecchia la tavola cosa le fai tu qual è la cosa che tu fai tu con le tue mani tutto 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 la cosa che ti piace di più fare focaccia al formaggio focaccia al formaggio perché così posso anche mangiarla ok beh è un po tipico qua è un continuo mangiare quindi vedrai che infatti io ho detto a tutti quanti qui che sono qui che oggi questo ricetta non si poteva mangiare perché me la mangio io stasera delle cinque ricette che registriamo al giorno ne scelgo sempre una per poi quando caccio via loro mangiarmela è stata la scelta la tua quindi non la mangerai neanche tu devo fare la roccia del coniglio lì ti farò mangiare quello benissimo allora hai portato tutte le tue cose quindi immagino che questa sia prescinsè uova che tu usi di solito nel tuo negozio ok con chi sei sei da sola gestione familiare da quanto tempo ce l'hai raccontami un po di cose siamo io e mia mamma io sono in cucina e lei sta al banco servire è grande piccolo io non ce l'ho presente quindi verrò ma siamo medio abbiamo nove posti con le mensole ah perfetto quindi uno può anche mangiare lì abbiamo un banco abbastanza lungo e sforniamo le teglie grosse ok e facciamo tipo sciamada bello figo mi piace ascolta prego prendi il mio posto che di solito io cucino qui e io invece faccio l'intervistatrice non faccio niente bellissimo spiegaci solo a voce un attimo la ricetta la ricetta per fare le acciughe ripiene è semplicissima diciamo per fare anche a casa ok è bravo esatto un po di pane raffermo un po di mollica sì che ovviamente manuel ha portato tutto tutto non ha dovuto far fare la spesa la cona ad oggi è stata libera di tutto ok lo ammorbidiamo con il latte sì e poi andiamo aggiungerci gli ingredienti che per dare allora vuoi un ciotolone quanto grosso lo vuoi aspetta che io devo venire qua sotto un attimo sparisco dimmi se ti va bene questo aspetta benissimo perfetti sì ok quindi primo procedimento prendiamo il pane lo mettiamo dentro con il latte ok sei sposato quanti anni hai 30 sembri molto più giovane mio figlio veramente adesso domani ok ok aiuto telefoni accesi tutti quanti 30 anni ne dimostri molti meno bene ok maschio femmina maschio questo maschietto già una femmina di tre anni hai una femmina di tre anni sono tutti maschi ormai un incubo un centro per bambini prima di iniziare a fare questo lavoro che dove il 90 per cento degli iscritti erano maschi il mio incubo prego dopo che mettiamo il pane con il latte lo diamo un po diciamo ad amalgamare ok poi aggiungiamo il prezzemolo e la maggiorana che va in tutti i piatti di rigori maggiorana ovunque ok ne abbiamo usata tanta infatti no ce l'ha vedi sei stato preparato ma lui l'ha già portata e l'ha già portata anche tutta sminuzzata perfetta già pronta siamo perfetti stamattina non voglio entrare a fare chissà poi dopo che ci mettiamo i gusti ci mettiamo un po di formaggio sì due ovetti sì e ci mettiamo ovviamente la prescia in sé a quindi tu fai tutto qui cioè nel senso poi il pane non va strizzato e messo da un'altra parte per fare la preparazione ah ok facciamo un bel ripieno morbido ok le acciughe poi cuociono no si tende un po ad asciugare no oh sì certo se tu le vuoi belle e morbide magari alla fine aggiungi un po di latte ok senti e le schiacci una sopra l'altra cioè fai a libro prendi un'acciuga mettila di pieno di pieno e acciuga sopra ok e poi ci mettiamo una bella sfoglata di formaggio e forniamo molto bene puoi cominciare quanto vuoi il forno ma sui duecento così mettiamo statico sì allora aspetta che togli intanto questo non ha bisogno di un forno aggressivo si bruciano va bene vai ok allora prendiamo il pane occhio che scotta tranquilla non sapevo dove metterla ma ho un lavandino gigante adesso avevo un lavandino piccolissimo me ne hanno montato uno nuovo adesso allora raccontami un po tua figlia ha tre anni tre anni come si chiama cosa fa va bene andrà all'asilo si chiama Rebecca si va all'asilo si va all'asilo sei un sei un papà che ha voglia di giocare di fare la sera per quando arrivo a casa sui giorni a lavorare giochiamo tanto ok ok e poi abbastanza anche vivace sì mi immagino perché è una femmina quindi brava sarà molto vivace è una femmina prima figlia dunque mamma mia ok va bene bene ovviamente se possiamo usare anche del pane che abbiamo in casa secco va bene ok quindi non necessariamente uno deve andare a comprare il pane apposta per fare le acciughe ripiene senti stai prendendo solo la mollica o mollica dipende da prendiamo solo la mollica ok così facciamo un bel ripieno morbidino ok senti dammi un po di quindi mi hai detto dammi un po sì di ricette tipo lo stoccafisso come lo fate lo stoccafisso parliamo un po delle ricette che fate giù in negozio noi lo stoccafisso lo facciamo bollire in separata cioè prima lo spiniamo e poi facciamo a parte lo facciamo il sugo e poi l'accomodiamo capito ok perché la gente non vuole arrivare a casa mentre mangia avere spine in bocca eccetera o la lisca certo certo ah quindi fai tutto prima poi togli la pelle e la lisca e a quel punto lo sistemi fai a parte fai il sughetto ci metti sempre pinoli olive taggiasche buono mi piace e le torte le torte segreti che torta ti posso dire non lo so ti posso dire la torta che facciamo con la prescinsea se vuoi la torta di bietole ok l'abbiamo fatta con la mia scarola dell'orto noi facciamo con le bietole le erbette fresche e la prescinsea sopra ah quindi fai il proprio strato di prescinsea sopra le erbette sotto così ok e poi mettiamo ovviamente la sfoglia sotto chiaro sopra ok la chiudi tu ok e la mettiamo in forno il resto le altre torte no perché sono troppe no perché hanno un sacco di segreti segreti ingredienti segreti si per riuscire a estorcere delle ricette dai cuochi non ti dico minacce cose varie ma non funziona adesso che diciamo che siamo pronti con la mollica andiamo a mettere un po di latte ok ovviamente un bicchiere così diciamo quelle quante acciughe sono più o meno di peso queste qua sono un chilo di acciughe che le ho pulite io tutte un chilo ok poi se noi per quattro persone possiamo fare più o meno ne fai quattro a testa certo fai sedici acciughe poi c'è uno che mangia tanto gliene fai cinque sei se beh io sono capace mangiare bene dieci per esempio però sempre il solito problema quando danno gli ingredienti danno gli ingredienti da una parte per le persone normale poi gli ingredienti miei a me mi chiedono sempre anche nel negozio per una porzione quante ne prendiamo di socca fisso ok puoi sapere più o meno sì perché tu non sai quanto per te un po abbondante certo a casa poi esagerano sempre esatto è quello che succede anche qua io ho un fidanzato che mangia per tre veramente mangia per tre uno esatto no beh guarda ti dico è un incubo poi mangia tante cose durante la cena per cui quando ti devi sciacquare qua c'è tutto senti cosa qual è il tuo piatto preferito non che fai ma in generale il tuo piatto preferito pansotti al sugo di noci pansotti al sugo di noci è già la seconda persona credo che mi abbia dato mi ha dato il pan sotto mia moglie è allergica alle noci non può mangiare i pansotti a casa su di noci allora con questo ho dovuto diciamo diminuire la mia razione settimanale allora quando li mangio li mangio ancora più voglia fuori ok è una cosa che non ti piace non mi piace la trippa forse la trippa accomodata però se sei obbligato a mangiarla la mangi cioè non c'è niente che tu non mangi proprio possibile da quando che diciamo che da quando abbiamo il negozio e comunque mio padre che aveva ristorante e tutto tra virgolette sei obbligato a mangiare cipolle porri cose che tipo dai la mia figlia dice no grazie e a casa cucini sì ogni tanto sì però arrivo tardi se mia moglie cucina lei mi anticipa sì ok va bene a domenica cucino io comunque ok carne o pesce preferisci preferisco la carne però anche il pesce mi piace abbastanza anche il pesce al forno gamberoni facciamo tutto orate i gamberoni cioè non è che però hai fatto bene a portare l'acciuga te l'ho già detto prima quando ancora non eravamo in registrazione perché non abbiamo questa cosa fine che tra un minuto c'è la pubblicità ma posso dire la cosa che volevo dire e cioè che la prima ricetta vera che facciamo con l'acciuga come l'abbiamo usata per fare varie le paste eccetera però come ingrediente principale sono ben felice di fare questa ricetta ligure e questa settimana è la settimana delle ricette liguri ci vediamo dopo la pubblicità pubblicità allora siamo tornati di bossa durante la pubblicità manuel ha messo un altro po di mollica così almeno riusciamo a riempire la teglia ok dicevo che stavo parlando troppo quindi concentriamoci un attimo sul ripieno poi ti faccio delle altre domande latte mollica appunto per ora ok poi ci mettiamo due ovetti si interi si interi ok guarda qua rumenta ok tutto quello che ti avanza stiamo attenti al guscio poi ci mettiamo un po di formaggio si vuoi un cucchiaio si grazie così non mi sporco di nuovo le mani aspetta scusami ho delle mazzate con questo bene e questa è la classica questo è il ripieno delle acciughe classico ok alla ligure diciamo scusate tu quando cucini per servire cioè praticamente lavori 24 ore su 24 quasi no ci diamo due ore di tempo prima il negozio prima di aprire facciamo 7 e mezza 9 e mezza ok apri alle 9 e mezza brava e c'è già torte un po di roba pronta ok poi nel frattempo continui soprattutto le asciughe diciamo che se le fai uscire dopo è meglio così perché le mangiano calde più buone eccetera prezzemolo prezzemolo questo deve essere benvenire questo sale non ne metti lo metti ok te lo passo vuoi anche il pepe no no grazie non ti serve maggiorana evergreen ok ci mettiamo il sale adesso poi dopo guardiamo ancora se siamo a posto non so cosa sta succedendo a questo macinino che vabbè te lo lascio qua e poi ci mettiamo l'ingrediente ti do un altro cucchiaio segreto questo l'ingrediente segreto ah questo è un ingrediente segreto che non è più segreto che non è più segreto perché guarda mi fermano per la strada qui a Genova per dirmi abbiamo visto quindi è un programma seguito per cui l'ingrediente segreto non è più segreto mi dispiace tanto e perché squadratifi? Sampdoria molto bene sei accettato in questa cucina era un po' che non lo menavo col calcio eh e non è andata bene neanche questa settimana vero Jacopo? Comunque vabbè non è andata bene neanche a noi però vabbè a nessuna delle due stiamo registrando nei giorni in cui il Genoa ha giocato con la Juventus anche se voi vedrete questa puntata un po' più in là però giustamente con la Juve è veramente difficile in questo momento vincere Sì E spezzo sempre una lancetta a favore del Genoa giusto per non farmi insultare per la strada solo per questo bene Sandoriano moglie Sandoriano o in famiglia c'è un casino? No c'è casino è Genoana ma non è la prima coppia che mia figlia è Sandoriana però ok perché è femmina il papà è Sandoriano stadio vabbè ora quando io ho messo tutti gli ingredienti dentro ok mischiamo bene tutto Ah quindi vedi che rimane bella morbida amalgamiamo sì più rimane morbida ok quando diciamo le acciughe saranno cotte si saranno raffreddate rimangono morbide eh beh certo per favore invece non vengono asciutte tipo diciamo che non deve venire come ripini di verdure no chiaro che rimane più duro ok più sodo se l'acciuga rimane un pochino più morbida adesso sono curiosa di vedere come fai a mettercelo sopra però guarda in negozio per fare prestissimo Ok mettiamo usiamo sac a poche ah bravo perfetto giusto se no puoi prendere un cucchiaio ok ora ti faccio vedere come si sono curiosa così almeno perché a casa la sac a poche Ah lo so Tra l'altro io la detesto la uso ma non mi fa pazzire Faccio dei casini sempre mi cola tutto ma sono casinista già io di mio Bisogna soltanto assaggiare per vedere se va bene il sale ti do un cucchiaino? Sì Vai Le puntate con gli ospiti ripeto sono le più divertenti perché io sono molto rilassata non devo cucinare Io aggiungerei un po' di sale perché c'è la prescensione che è molto Eh beh sì lo ammazza un po' la tira giù Segnali da dietro sposta questo Giada mi faceva addirittura sempre con il lavandino Ok ci sei? Yes Allora per mettere le acciughe nella teglia Sì Questo lo appoggio un attimo qua Mettilo dove vuoi Vuoi dell'olio mi hai detto Mi serve un po' di olio sì grazie Volevo sapere quanti minuti mancano Sei ok Allora per capire quando iniziare a fare le acciughe Ok Abbiamo un pennellino Sì ce l'ho guarda sorprendentemente è una cosa orribile chiccissima ma dovresti riuscire a spagnare Vabbè questa qua sono cose raffinatezze Sì raffinatezze un po' come il suono della campana prima della pubblicità ma Poi lì abbiamo dei buzzer ma per ora non ho tanta confidenza se avessimo avuto più confidenza magari ti buzzavo Bastava una mini c***ina e te Guarda ho buzzato chiunque Vabbè sono fortunato Ecco qua Grazie Adesso tu stendi Prendiamo le acciughe ovviamente dobbiamo pulirle no Sì Togliamo la risca e la testa e l'interiore Ok L'acciughe è facile da pulire Cioè quando è chiusa Ecco spiegalo un po' che non sempre il pescivendolo non sempre te la pulisce l'acciughe Pescivendolo si dici di pulire l'acciughe al mattino e ti manda a quel paese di sera te le pulisce Valentina perché deve venderle Esatto esatto bravo L'acciughe quando c'è la testa ancora qua prendi la coda non deve essere mai staccata perché è quella che fa tenere l'acciuga rigida Prendi la testa la togli Sì Poi levi l'interiore Sì Con questo dito qua tieni ferma la coda E apri E sfiletti la Esattamente La schiena tutta quanta Ok Questo lavoro lo fai sotto l'acqua giusto? No 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 perché vedo gente che per due ore il rubinetto è acceso E io spendi il rubinetto non ti serve E no sto facendo le acciughe E in realtà poi sciacquano sciacquano e l'acciuga non sta più di pesce Diciamo che ormai per pulire un chilo di acciughe Boh 4-5 minuti la faccio Ok Cioè ne facciamo tutti i giorni Sì ormai sei diventato super veloce Ok Poi del normale se sei a casa non l'hai mai fatto Le prime 5 penso che le butti via perché le stacchi a metà Eh sì perché molto spesso si rompono Bisogna prenderci la mano Sì sono molto delicate Se volete fare le acciughe marinate come le ho fatte io sul blog Mi raccomando purtroppo c'è il problema dell'anisakis E quindi devono essere soprattutto l'acciuga deve essere abbattuta Perché poi in realtà il limone e l'aceto nello specifico non uccidono l'anisakis Ok Ok quindi voi siete sicuri al 100% che le abbiano abbattute Oppure le mettete in congelatore per 4 giorni almeno E poi le mettete a scongelare nel frigorifero Non fuori A quel punto potete farle marinate No perché adesso c'è questo incubo dell'anisakis E quindi il vermetto dell'acciughe Esatto Per cui Le acciughe non le mettiamo attaccate ok Perfetto Perché cuocendo il ripieno si gonfia Ok Così almeno se uno vuole fare una bella figura L'acciughe viene staccata Ok Se le metti troppo attaccate Viene una striscia unica di ripieno Prendiamo l'acciughe sotto il ripieno Sì L'acciughe sopra Ok Se hai la possibilità di avere acciughe più grandi Puoi anche fare le acciughe le fai al libro Prendi l'acciughe metti il ripieno e poi la chiudi così Ah però ci vuole l'acciughe grande Sì effettivamente un po' più grande Sì Ecco qua 1, 2, 3, 4, scusa Stavo pensando per la mia cena 2, 4, 6, 6, 12, 18 Vabbè dai tanto non c'è spazio Non c'è più spazio Ok Lavati le mani Io andrei in pubblicità un goccino prima del tempo Perché così almeno non dobbiamo interrompere Durante la riempitura dell'acciuga Nel frattempo niente Dai andiamo in pubblicità Sarà leggermente più corto questo blocco Un po' più lungo il prossimo Pubblicità Allora io visto che gli ho chiesto quanto ci metteva a riempirle Visto che penso che quella teglia di acciughe io non la mangerò perché la mangerà tutta Simone Il quale è un facocero Mangia come un porco Quindi se per favore mi puoi fare anche un'altra teglia Ti ringrazio Ok te la metto qua Sì sì Senti quanto Scusami ma veramente è capace di mangiarsene tutte da solo Quanto tempo devono stare poi in forno? Ma facciamo queste acciughe qua Anche un quarto d'ora massimo 20 minuti sono pronte Ok allora aspetta che ti sposto questa Così fai anche l'altra Almeno le riempiamo tutte e due le placche Senti e aspetta ti ho già chiesto cosa ti posso chiedere Se fai sport che cosa avresti voluto fare da grande Se sei contento di aver fatto questo lavoro Un po' le domande che faccio a tutti Non ce l'hai il tempo di fare sport Il tempo vado a correre qualche volta Ok Niente di serio Oddio che coraggio andare a correre Dopo lavoro tra l'altro Ok Dunque di sera dopo le 8 Così Mezz'oretta Sì ma Cioè Sì no Obbligato Anche no Eh lo so è tremendo Quando fai questi lavori poi in piedi E l'ultima cosa che hai voglia di fare È di fare movimento Nuotare forse D'estate in mare Sì Quando sono in ferie Ok tipo mai Cioè quando hai le ferie Boh il 15 giorni ad agosto Canolici Ad agosto brava Ok Sì sì perché D'inverno lavoriamo tanto Perché la stagione invernale E queste Ok No perché Poi considera che noi abbiamo la fortuna Che non per forza dobbiamo andare in vacanza Cioè io sarà che l'estate Mi piace passarmela qua In Liguria Quindi non sono una che per forza Se ne deve andare Amare qui sotto Esatto Esatto Perché magari il mattino piove Che magari il mattino piove Fai un po' meno Quando hanno l'allerta meteo Magari o non apri O apri Di mezzogiornata Ok Se hai un ristorante Quindi hai la libertà decisionale di quando tenere aperto Hai un tot di giorni immagino di obbligo da tenere aperto no? Sì Il nostro jolly è il lunedì Ok Sei chiuso? No Siamo aperti Ma non senza impegno Ah ok Quindi sei aperto La domenica no? No Ok Festi Cioè non abbiamo Non abbiamo Il giorno di chiusura è domenica E il lunedì Ok Il lunedì a pranzo Se voglio Apro Ok ok Comeriggio chiuso Senti che tipo di clientela hai? Di tutti i generi? Dai piccoli ai grandi? No Perché i giovani Non Diciamo che non Non gli piace questo tipo di cucina È vero è assurdo La trovo una cosa Molta gente non conosce Non so neanche cosa la panissa Eh lo so Cosa è così Qui gli anziani fanno Oh Eh lo so Soprattutto dell'anziano Sì Se tu gli racconti che una volta Si mangiava il pane Quindi in mezzo alla farinata Sono scioccati Sono tipo Sotto la mia età Sotto i 25-26 anni Non sanno niente Sì no effettivamente mi dirai Si è perso tutto Si è perso un po' tutto Invece abbiamo molta gente La tua mamma ha sempre fatto questo Da quant'è che avete questo posto? Me l'hai detto ma forse me lo so No noi siamo 10 anni Io ho questo posto E mia mamma e mio papà hanno avuto ristorante Al ristorante me l'hai detto Per sempre Da quando sono nato io E cosa facevano? Cucina a Ligure? Tutto Pesce, carne Ok Sì sì in centro Bene adesso sono stracuriosa Sì Di vedere come riempirai le acciugine L'ho già detto forse prima Noi usiamo sac a ponche Facciamo Cioè Veloce Però se a casa uno Non ha Perché a casa secondo me non ce l'ha L'attrezzatura Con un cucchiaio si può dare una mano E si mette il ripieno sotto l'acciuga così Ok Che figata Quindi lo fai proprio sfragnare Sì Non come diciamo noi Questo se viene Se facciamo leggermente più asciutto è meglio Ok Perché col sac a ponche ti rimane sul posto diciamo Sì Invece vedi che il cucchiaio Vabbè ma sai poi lo vai a Quando è cotto lo tagli Se sei un dito all'altro Scusate ma appoggio con un mal di schiena fotonico Non soffre di mal di schiena Stare in piedi sempre Sì infatti intanto Per pulire le acciughe mi siedo Eh ok Allo sgaballo Una roba tragica questa cosa della cucina È meravigliosa ma mi sento sempre in piedi Ah vedi Cioè l'acciuga No mi piace questa cosa del ripieno morbido Perché effettivamente ogni tanto mangi delle acciughe ripiene Che al gusto sono buone Ma sono asciuttissime Ma sai quelle a volte le acciughe Le puoi riprendere diciamo Le impagni le fai fritti Allora ci stacca un po' quello stopposo Ah no vabbè ma certo Quelle impanate fritte L'acciuga ripiena Si può fare la variante Ok Che diciamo che è la variante tra l'acciuga fritta impanata E l'acciuga ripiena E l'acciuga ripiena Così io poi metto la cosa qua e te le copro io mentre tu fai quello Perché va bene non fare nulla ma Cioè è bellissimo perché Allora avevo iniziato che quando c'erano gli ospiti Mi davo da fare Poi piano piano ho capito che ero totalmente inutile Per cui Cioè le vuoi metterci tutto su cosa? Sì tu fammi vedere la prima come la metti Io la metto a specchio con coda su coda Ok così Ok allora se vuoi intanto riempire le altre io ti faccio questo lavoro Guarda che perfetto questo Oh mi piace Vabbè che io il pesce lo mangerai tutto crudo eh Però Cioè fosse per me La cucina del pesce non esisterebbe Ti piace il sushi? Sì sì Più che sushi mi piace proprio il pesce naturale così com'è Con un filo Io non metto neanche il limone Filo d'olio e sale Ok Ecco poi sono di una lentezza perché mi piace fare cose per bene Però vedi non potrei mai lavorare in un posto come il tuo Perché saresti sempre a sgridarmi Veloce No perché ci viene la gente che poi ti dice se è valentina abbiamo fame Esatto La gente ha fame Ok Dove lo prendi il pesce? Lo prendiamo nella pescheria Micannetto che è la cooperativa del pesce Sì E loro hanno solo pesce ligure Ah bella Sì Ok Ma poi l'acciuga diciamo che per Anche le signore lo sanno che l'acciuga ligure è quella più piccolina Esatto Quando vedono l'acciugona dicono Non è ligure Bellin quella non è nostra Guarda le signore sono attentissime al supermercato mi seguono per vedere che cosa ho dentro al carrello Immagino Sì sì Vogliono sapere che cosa ho comprato Che cosa faccio da mangiare Ah Questo è un lavoro bellissimo Ok Ho la tosse Tua figlia mangia? Sì l'hai amata per la pasta al pesto Ah vabbè ma la pasta al pesto ai bambini piace un sacco Mamma mia tantissime Devo dirti la verità Ok Verdure come siamo messi a verdure? Normale Medi Medi Normali Io non lo so perché io ero una bambina strana Mangiavo un sacco di verdure e di frutta in realtà mi piaceva tutto Sai all'asilo li fanno tante cose con C'è il menù Hanno una dieta equilibratissima Ah Tutti i giorni c'è il contorno di verdura O carne o pesce Poi c'è il primo Sì praticamente non è come quando andavamo a scuola noi No no che ora c'è un menù che è proprio Ok guarda Cioè si mangiavano veramente delle cose obrobriose No ma guarda che belle che sono Jacopo ci siamo dimenticati di fare le foto Però pazienza E poi c'è il giorno pizza che non c'hanno niente solo la pizza Ovviamente Rebecca bis c'è scritto No veramente ah perché puoi fare il bis Che figata Si no se lo mangia o non lo mangia Bis Ok Ecco qua Wow fantastico Adesso Tolgo la griglietta Si però ti devo far vedere che c'è ancora Una cosa Vai Da fare prima di infornare Falla Ci mettiamo un po' di formaggio sopra così Per venire la crosticina Beh direi che Grazie a te stasera riuscirò a mangiare anche io Perché la mia grossa preoccupazione Era la lua unica teglia Singola Bene Ecco qua Ok vado in forno Si Cerco di distanziarle più che posso Ma avendo messo il soprassotto Forse adesso spostiamo il ventilato così Va per tutte Allora così Opla Attenzione Guarda metto il ventilato così siamo sicuri che si cucina tutto Bravissima 200? Si Vai Minuti Più o meno poi la controlliamo Facciamo 15 15 Quanto poi ci la guardiamo Ci vediamo tra 15 minuti state lì eh Cioè no nel senso Ci vediamo tra pochissimo ma noi facciamo passare i 15 minuti Ok abbiamo tirato le acciughe fuori dal forno Non ve l'abbiamo fatto vedere perché giustamente me le devo riscaldare stasera E quindi L'abbiamo tirato fuori un secondo prima Sì 15 minuti comunque sono passati tutti Mi hai detto giustamente che vanno mangiate tiepide non bollenti No Così Allora per uscita no Diamo il tempo di Ok Abbiamo pochissimi minuti Adesso Jacopo viene qui Inquadra la teglia E tu dacci un po' di ingredienti su un chilo di acciughe così come le avevi Sì dai su un chilo di acciughe Va bene Per preparare un chiletto di acciughe Usiamo tre panini grandi La mollica Ci mettiamo un bicchiere di latte Poi ci mettiamo due pugni di formaggio Due uova Un po' di prezzemolo e un po' di maggiorana Più di prezzemolo e meno di maggiorana Ok E poi ci mettiamo l'ingrediente segreto che è la presci in sé a un basiletto da 250 grammi Sì Bene Manuel ricorda dove ti trovano Dacci un po' di orari e poi ci salutiamo Siamo in via Cannetto Lungo 31 Rosso Proprio dietro al Duomo Ok Siamo aperti al mattino dalle 9 e mezza alle 2 e mezza Pomeriggio riapriamo alle 4 Chiudiamo alle 7 e mezza 8 Ok E siamo aperti sempre a parte la domenica e lunedì che ci riposiamo Ok Perfetto Bene andatelo a trovare Siamo qua Le delizie dell'amico Le delizie dell'amico Noi ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao Grazie a tutti